Bentornati ad un nuovo approfondimento video di quello che finisce su The Maximilian. Il brand è 47 e le sue felpe e i suoi cappelli mostrano un'attenzione al dettaglio molto particolare per quello che è una nuova frontiera dello sportswear. Oggi ci occupiamo di alcuni di questi prodotti e li vediamo nel dettaglio insieme. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!